C'è un ultimo tema emerso in questi giorni, quello dell'aeroporto. Mi spiega che cosa si sta cercando di fare? Perché noi abbiamo fatto notare che c'è una concessione che scade a breve, quindi se io fossi un grande imprenditore valorizzerei poco oggi l'ingresso nell'aeroporto di Genova. Questo è evidente che sia un tema che riguarda poi chi dovrà partecipare. Io credo che quello che il Presidente Lavarello e i suoi collaboratori stanno portando avanti è un disegno di cui si parla da molto tempo e che nessuno aveva mai affrontato in modo così netto come il Dottor Lavarello, che è un grande esperto di logistica e di intermodalità. Ed è tutto sommato semplice. Noi abbiamo qua le principali tre compagnie di crociere del mondo che ospitano i nostri porti. MSC a Genova, Costa Savona e anche Royal Caribbean che gira nei nostri porti, penso a Spezia, ma non solo a Spezia. Abbiamo un aeroporto che sarà collegato dalla ferrovia di qua a due anni con quella stazione di Genova Aeroporto Erzelli che sarà poi collegata con un tapirulano all'aeroporto stesso. Io credo che sfruttare l'interconnessione tra oltre 3 milioni e mezzo che diventeranno 4 quest'anno milioni di passeggeri che molto spesso volano su altre destinazioni per poi imbarcarsi sulle nostre navi possa essere un buon affare per chi fa crociere e anche per chi gestisce l'aeroporto. Che non vuol dire avere un aeroporto di charter per le crociere. Vuol dire avere, grazie a 3 milioni di passeggeri messi a disposizione da chi li ospita sulle proprie navi, avere alcuni voli di linea dai principali aeroporti che poi saranno utilizzati ovviamente a pacchetto venduto con le crociere dagli operatori delle crociere e dall'altra parte saranno evidentemente utilizzati anche da chi si sposta per un turismo libero o per business. Il fatto di rafforzare una presenza industriale, perché tutto questo comporta la necessità di vendere biglietti integrati aereo crociere, trattare con le compagnie aeree e ovviamente connettere i voli alle partenze delle navi, organizzare con Trenitalia lo spostamento. L'idea è di fare il check-in o il check-out all'aeroporto e trovarsi la valigia in cabina. Occorre ovviamente dei soci industriali. Questo sta cercando l'aeroporto. Poi come entreranno, in quantità, in quale qualità, se uno o se più di questi, sarà evidentemente il ragionamento dei prossimi mesi. Credo che sia anche di tutta evidenza che se entreranno oggi con una concessione come lei dice di scadenza di qua a 4-5 anni, poi vedremo la data esatta di scadenza, è perché si vuole preparare una solida società che poi partecipi evidentemente alla prossima gara con una compagine industriale, azionaria già formata, solida e finanziariamente e industrialmente robusta. Questo è il disegno che vuote intorno all'aeroporto. Vedremo quanto di fattibile ci sarà nelle prossime settimane.